Elia fuori da amici, la decisione che ha sconvolto tutti. Recentemente, nel mondo dello spettacolo italiano, si è verificato un evento che ha colpito i fan e gili spettatori del famoso programma televisivo Amici. Elia Fiore, un ballerino molto apprezzato nel cast del programma, ha dovuto dire addio alla sua avventura in questo contesto. La sua eliminazione ha suscitato un misto di sorpresa e commozione sia tra il pubblico che tra gli altri partecipanti. Prima dell'annuncio ufficiale, c'erano state voci che Elia fosse stato visto al McDonald's di Roma Tiburtina, suggerendo che potesse essere stato eliminato dal programma. Queste speculazioni sono state confermate nel Daily del 20 novembre, segnando la fine del percorso di Elia in Amici. L'eliminazione di Elia è avvenuta in un modo piuttosto insolito. Durante l'ultima puntata era stato messo in sfida, il che normalmente avrebbe significato che avrebbe avuto l'opportunità di lottare per mantenere il suo posto. Tuttavia, Emmanuel Law, il maestro di Elia, ha preso una decisione diversa. Ha dichiarato che non avrebbe nemmeno permesso a Elia di affrontare la sfida, poiché aveva già deciso di non proseguire il percorso con lui. Questa decisione ha causato una grande delusione, tra gli altri allievi, alcuni dei quali sono scoppiati a piangere. Elia, dopo aver ballato per l'ultima volta nello studio di Amici, ha lasciato il programma. Ha espresso i suoi sentimenti riguardo all'eliminazione, dicendo «l'ho sempre saputo di essere per pochi, poi il passaggio dal pensarlo al realizzarlo come è avvenuto in questo periodo è brutto, veramente brutto. Però vabbè, è andata così, sono comunque contento di averci provato». Queste parole riflettono una mistura di delusione e gratitudine per l'esperienza vissuta. L'uscita di Elia dal programma Amici non è solo la fine di un percorso per un giovane talento, ma anche un momento che sottolinea la natura imprevedibile e spesso emotivamente intensa del mondo dello spettacolo. Mentre Elia si prepara per il prossimo capitolo della sua carriera, il suo tempo in Amici rimarrà un'esperienza significativa nella sua vita, sia per le lezioni apprese che per i ricordi creati. Grazie.